La principessa etiope ha confidato ai suoi fan in che rapporti è oggi con il cuoco dopo il flirt nella casa più spiata d'Italia. Nel corso di una diretta Instagram Jessica Selassie si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. La vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip ha confermato di aver tolto il Tsegui, a Baru, con il quale aveva vissuto un flirt nel bunker di Cinecittà. Come pensavano i più, la principessina etiope non ha apprezzato le dichiarazioni del nipote di Costantino della Gerardesca a Verissimo. Baru si è dichiarato singolo e stufo delle domande su Jessica Selassie. L'ex GFino ha inoltre precisato di non essere mai stato innamorato della ragazza. Affermazioni che hanno ferito molto Jessica che, istintivamente, ha scelto di togliere il follo a Baru. Su Instagram la più grande delle sorelle Selassie ha poi ammesso, piccola comunicazione per i miei amati Ieru. In questo momento le acque non stanno scorrendo. Io voglio bene a Baru e so che lui me ne vuole solo che per ora è un po' così. Nel corso dell'ultima diretta su Instagram Jessica Selassie ha inoltre ribadito di non aver litigato con la sorella Lucrezia, detta Lulu. Un'indiscrezione circolata negli ultimi giorni dopo uno screzio tra le due. Un banale screzio di famiglia ma nulla di più, le due ex GFine sono più che mai unite. Jessica ha inoltre assicurato che la relazione tra Lulu e Manuel Bortuzzo va a gonfie vele nonostante i problemi della Selassie con il suocero, che non approva questo legame dell'ex nuotatore. La vincitrice del grande fratello Vip ha inoltre anticipato che a breve tornerà a Verissimo per una nuova intervista. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.